ok io registro solamente quindi come andranno le partite andrà nella partita salve ragazzi sono con Grievous eh che cosa con Dictatore e Ignoto ormai Grievous è nella mia testa togli esce dalla mia testa mi sentite sì 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 ti sento ti sento ok gli è venuto il trauma del push to talk a Ignoto è venuto il trauma adesso no mi dimentico del push to talk e parlo senza schiacciare io parlo da solo vabbè tutto normale oggi parliamo un po' di cose lamenterli noi dobbiamo lamentarci perché siamo boomer esatto andiamo Ignoto se ci sei batti un call esatto ah ma vedete avviare avete visto qua gli aggiornamenti chi cosa come dove quando perché devono ancora finire però li stanno mettendo vedi i termometri i sensori poi stanno aggiornando gli oggetti si no no ci stanno aggiornando vedi sono a tre livelli ah ok che cazzo che è il termometro sono quelli vecchi sì quelli vecchi che non li usi più che ora sono illegati sembra quelli che di sembra quelli che c'erano delle tende mediche della prima guerra mondiale no ragazzi ma la lampada d'olio l'avete vista qua sì 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 al posto della lanterna no è perché se piove no tu lo usi quello per e lo metti là che è meglio così quando spegne capire più figo no ma ci rendiamo conto ma ma ci rendiamo conto ma l'incenso è bellissimo ragazzi l'incenso è bellissimo ma questo è l'incenso è quello del killer di dead by day no ma guardate questo qua sotto quanto è figo guarda quanto è figo questo qua del 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 co dot cioè praticamente si lo appoggia e gira c'è l'utero gira quello di fianco al dot che cos'è la la ciabatta per le prese di corrente no è quello più piccolo che serve che lo tiene in mano come una torcia questo qua che c'ha tre cerchi guarda quello tutto a destra e no quello tutto a destra e quello che tu la mettesi una ciabatta delle correnti però se tu lo metti se tu lo metti visto nei video praticamente cosa fa lo appoggia al muro e gira c'è va a destra e a sinistra e a fa un ampio raggio più visibile è molto più piccolo queste sostanze qua dentro che animali sono qua se boccette di vetro e no guarda bene il sale e poi questi altri due non so che cosa saranno le nero sempre di cine queste qua ragazzi sono le mie le posto delle pasciglie c'è per la sanità mentale credo no stanno qua sotto stanno le cose vedete vedete ragazzi stanno qua come sun amica ti fai il punturone a no a no vedi ci sta la quello più picco che secondo me la stamina ti aumenta l'adrenalina poi percorrere avevo letto che vogliono farti c'è qualcosa per farti correre di più è però non so poi abbiamo i libri che sono variabili le dimensioni tra la block notice al libro e cosa poi ok come sun dovrebbero dovrebbero mettere il pervitin secondo me vuole capire capisco secondo me fanno una gente un aggiornamento bello ma si c'è un sacco di roba la ma se tu vedi hanno già migliorato le luce pian piano stanno mettendo tutto il computer di dictamune sa qualcosa però però posso dire una cosa si posso dire una cosa però una cosa ma è bellissimo il crocifisso d'acciaio cioè questo che lo buttiamo questo l'hanno rubato dalla bella fatta con gli stuzzicadenti della messa si sono andati in chiesa si tutte l'hanno proprio rubata staccato da una stele e così se vedi una una fantasma io lo pizzi direttamente al cuore cioè poi dopo poi dopo hanno picchiato il prete si sono presi anche l'incensiera quella la aspetta hanno rubato l'incensiera il prete ha provato a fermarli e l'ampicchiamo il prete con l'incensiera a mo' di randello ok che facciamo quei mappe dai che che facciamo inizio con questa che non mi ricordo come si gioca quale partiamo con la prima ok si inizia con questo che è easy mamma mia sto a morire già abbiamo cominciato male ragazzi partiamo approntatevi ragazzi ah io ho messo pronto pronto no vabbè ragazzi siamo partiti male già già ve lo dico che siamo partiti male non bene ma siamo già a ride come dei cretini è già il lento e questo è grave è pericoloso ho paura 8 11 a doi ok meno male me stavo già spaventando verina bene partiamo io aspetto maronna il caricamento e che cazzo ve lo lentissimo eccoci ci siamo tutti nerina il tap ecco scusate aspetta che il neria eccole eccole eccoci scusatemi nerina oggi sta facendo la pazza allora che ah nevica jingle bell jingle bell tutto apposto nevica allora solita situazione non lo so che dobbiamo fare eh per fare ciò che dobbiamo fare che dobbiamo fare no vabbè sicuramente un sensore quello la che fa casì per il rumore io ma mettere giù ah ok prendelo tu allora è uno almeno che prenderà la cucina e il garage contemporaneamente io prendo una torcia e termometro vabbè io giro con il garage raggiungo vi raggiungo vi così si tocca ok io l'fm lo tengo o l'fm chi lo va a mettere un sensore che riesce a prendere cucina e garage io sono stra pieno pensate voi due dividete ok allora prendo dopo lupi e lo vado metterò oddio hanno migliorato le luci che cacchiè vado a mettere vado a mettere giù e ho capito ma è bruttisto sto posto così n***a è scuro è scuro da far paura eh non ho capito poi ci l'hanno migliorate tantissimo eh eh quale luci dove quale luci raga ma no ma è scuro è molto più scuro l'ambiente rispetto a prima eh eh perchè è migliorata comunque si ragazzi qua in cucina è 3 gradi eh 8 a me fa 8 1 ah 1,6 adesso si mi sa che è qua eh sei qui secondo me è qua 4 vado a prendere il raggio vi eh no meno o meno 4 oh specchio ragazzi c'è lo specchio pure eh dopo dopo allora secondo me c'è la frizz raga secondo me c'è la frizz mi ha dato meno uno eh bisogna vedere cosa fa la fratella intanto vado a prendere il libro e così vedo se scrive e provo a vedere se parla con tutti no allora ragazzi è ah mi avete lasciato solo no comunque è frizz perchè sta congelando lì dentro è frizz allora ragazzi rimango rimango io a chiacchierare con lui prendo io è scappato appena ignoto dentro ignoto è scappato dentro si lo sto guardando da qua ok ma con che non è andato però con la spirit che è andato no sono andato con il libro e con i raggi vi ok allora aspetta come vengo io con la spirit quindi abbiamo frizz molto probabilmente abbiamo frizz però farla da solo sto venendo io con la spirit infatti vieni sul libro aspetta aspetta frizz anche qua rimanimi in attimo da solo con lui vieni vieni qua dentro si stavo vedendo frizz però anche qua dove sei? sei giovane? dove sei? aspetta ecco sei giovane? no è qui ragazzi in salotto è qui è qui è qui sei sicuro che sei meno dieci con lo specchio si no raga meno dieci si c'è anche la frizz qua in salotto infatti mi fa il fiato ok raga spostiamo dacci un segno dacci un segno allora spegnete spegnete luce andiamocene vieni dacci un segno mettiamo dots e telecamere avevo usato lo specchio perché ero curioso capi? minchia allora iniziano a mettere i dots e qualche telecamera e dictator abbiamo un dots e abbiamo come si chiama luce là come si chiama le orbs le orbs allora frizz e orb comunque sembra che non parla vado a mettere vado a mettere il dots e così controllo anche il libro ma che la fotografia c'è l'hai per sicurezza quindi ci sono le orb e la frizz ok tenete questo controllo la sanità mentale per favore si controllo stai tranquillo stai 80 stai 80 tranquillo con la sanità mentale qui se va bene il dots qua si si va bene va bene si si spostiamo la telecamera sposta la telecamera se puoi mettila dalla parte del televisore girata verso l'angolo giralo giralo perfetto qui lascialo grazie perfetto faccia così prendiamo dei sensori di movimento ho paura che questo sposta il libro l'ha aperto lui l'ha lanciato via quindi te l'ha lanciato non hai visto con l'MF quanto ti ha quando sono arrivato a smettere di suonare ok ok allora se vieni sensori di movimento almeno due e mi serve un FM ok l'FM ce l'ho io ce l'ho io pure uno perfetto e poi uno è già sul divano ok andiamo un attimo a provocare andiamo solo io e Dictator tu guarda la telecamera perché perché vogliamo vedere se fa il dozzo se fa il dozzo ma aspetta che c'è tutto dentro il movimento poi me ne vado ditemi dov'è ma eccolo MF MF ragazzi 3 3 3 3 sta giocando con le luci se non mi piace scrivi sul libro vuole che fosse un revenant ragazzi ma è ovunque è ovunque non è un revenant è troppo veloce scrivi sul libro scrivi sul libro dacci un segno dacci un segno ha rotto qualcosa puoi scrivere sul libro è uno U-Ray dacci un segno team perché ha fatto il dozzo ah ok ok ah l'ha fatto ha fatto il dozzo ok sei sicuro ok 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 vuoi cercare l'osso tecnicamente a te ti servo si a me mancano nemmeno mancano uno o due andiamo a cercare dai tanto delta tutta la sanità io ma si andiamo dai massimo si 76 ci possiamo no no a spero tutte le luci sto disgraziato ah no ecco l'ai la foto al fantasma da fare non lo so dovevo scoprirlo ah ecco cosa aveva fatto cadere un cappello non vedo vedere in queste stanze qua no non benissimo perché ho messo solo il ho messo solo il coso il sensore nel semi del ah io ho guardato il semi del 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 no ho fatto la foto io allo specchio ah ok ebbè ce lo sono scordati ah osso eccolo in cucina in cucina qui sotto ah ce l'ho qua lì prendilo credo che è per te andiamo fatti vedere fatti vedere dai che devo farti una foto fatti vedere abbiamo acceso troppe luci non mi piace mostrati dai fatti vedere mostrati team team sei qui dove sei dacci un segno team dacci un segno fatti vedere ragazzi non lo vedo più nel non lo vedo più lì credo che si è spostato ma dove ho fatto la foto eh vabbè è un team timido no no non sto facendo più segni segni morto eh beh sì effettivamente effettivamente sì è morto accanto osservazione accanto osservazione ok andiamo è c'è l'ente andiamo andiamo va andiamo vaffanculo guardati giù i power rangers ci fanno male per forza a neri go go power rangers no a te te manca ancora bella roba a te te manca dai che è uno o due a te te manca un bel cosa uno o due no ti manca uno qui sopra due tre qui sotto e poi ti manca l'altra cosa qui sotto vedi guarda guarda che ti manca il bacino te manca quella te manca quell'altro il femore go go power rangers è ormai ti 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 avete trovato una versione troppo bella Redux della prima sigla fatto troppo bene ma che versione? metal? sni non è che quello già è abbastanza martellante è già già di suo martella vero eh sì sì infatti ma ti senti 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 che qualche persona trova allora quello che l'ha fatta si chiama Ron Wasserman sì non me lo ricorderò mai domani mattina me lo sono scordato no è molto figo però a me mi rischia il copyright frattente voglio bene eh sì oh sì toglilo davvero sì ma sei impazzito penso proprio di sì a me è molto ragazzi sei sentito una meraviglia allora dico una cosa dico una cosa ce l'ho pagamento su spotify quindi è buon per te io non posso sì sì però penso che su penso che se lo mette su youtube soprattutto soprattutto adesso che Net ha preso tutti i diritti adesso che lo te lo faccio poi ascoltare su discord allora ok è una persona troppo bella eh lo immagino eh ignoto approntati oh sì sì andiamo approntati è cambiato tutto è cambiato tutto ok ma che vuoi andiamo? eh siamo qua via questa è la casa dove il dittatore è morto per la prima volta ah stavolta ha caricato prima buono infatti ok purifica l'aria con l'incenso si può fare ehm se fa un'apparizione o fa qualche cazzata si può fare anche questa perché fai assistere la squadra a un evento paranormale quindi due effettivamente queste due quale possiamo fare avete i capelli di merda guarda oggi come sono brutti stile eh non lo so questo questo personaggio qua allora qui possiamo muoverci un po' più a due piani se la voglia a dare ok i sensori di suono aspetta io vado sopra si si qua dobbiamo mettere i sensori di suono si si vai tu vai tu sopra a metterli sopra no no buongiorno ne mettiamo uno in cucina uno in cucina e uno nel nella nel garage se fossi in voi se fossi in voi uno lo mette proprio al centro qui vicino alle scale dove voi dovete scendere perché sei il sotterraneo ricapito quindi ah già c'è il sotterraneo quindi mettete quello al centro così prende una buona parte e e vi regolate va bene io lo vado a mettere sotto vado a mettere sotto perché sotto serve si vai nella alla zona garage così puoi accendere pure il generatore vado al garage ok va bene e delta va su si purtroppo da solo però aspetta a cosa serve a metterlo in zona garage se lo metti già in centro no no infatti tu al centro uno deve scendere qua giù a mettere questo ah perché c'è un microfono eh appunto si puoi mettere se lo metti bene al centro nello stanzino ah lo metto io al centro lo metto io al centro si tu hai capito quando tu entri quando dictator scende tu metterlo poi lì davanti e spiazza pum prima che scenda così ti sei tutto pensato ok va bene accendi il generatore e inizi a girare con il termometro secondo me esatto andiamo ah picco parentesi tanto essendo che questa è donna Betty la beccherò io sopra da solo la trovi tu si ormai perché ti vuole bene non sai eh moro male generatore acceso ok sotto non c'è la temperatura è alta sotto c'è ragazzi mi sa che in garage perché fa 3.0 confermamelo anche tu 1.4 1.4 eh si ragazzi mi sa che è proprio in garage eh la temperatura è bassissima qua si eh vedi la garage e questa stanza qua eh potrebbe essere anche la ok ritornate un attimo ci regoliamo di qua si confermo il garage ha tirato come ha tirato un oggetto 3.0 ottimo ora devo mettere un po' più a sinistra eh forse dopo lo sposto no no va benissimo secondo me va perfetto è in garage l'abbiamo scamato va in garage è incazzata ha 8 l'avete fatto incazzare prendo il libro allora se è incazzato prendo le impronte UV ma l'avete ma l'avete insultata che avete fatto? no niente niente siamo solo andati incazzata di sua c'è il ciclo vabbè è una donna ok l'aspetto allora vai dentro che è tua io con le donne proprio ha aperto l'acqua ha aperto anche una porta ma non lascia impronte aspetta ve l'ha aperto acqua aspetta aperto l'acqua ok ragazzi parla ok c'è una vocina bella sensuale è una bambina e allora può essere una bambina la bimba? si è una voce molto tranquilla è la mia bimba? no scherzo allora c'ha l'MF io glielo metto in mezzo al libro ce l'ho io l'MF chi ce l'ha? ce l'ho io ce l'è tu? hanno aggiornato la macchina Betty? Betty? vabbè vabbè anche se non la chiamo 5 è qui ok è dentro l'armadietta si però lo lascio impronte no aspetta devo togliere ok andiamo devo prendere una macchina fotografica MF quanto fa? MF quanto fa? 5 oh 5 buono allora c'è già due prove teniamo MF palla secondo me ho le orbo il dot allora le orbo non le ho viste ragazzi allora il dot chi lo piazza? ah io io madonna guarda quanto è a palla minchia è incazzata è incazzata si è incazzata è incazzata come l'hai chiamata l'hai chiamata Betty l'hai chiamata allora non vedo l'orb no infatti non ce l'ha si dovrebbe usare l'incenso nella stanza no infatti abbiamo detto mettiamo il dot perché l'orb non ce l'ha noi abbiamo messo FM e spirit box abbiamo detto spirit parla ragazzi però se scrive potrebbe essere uno spirito si mettiamo il dot però si 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 beh certo proviamo a vedere se scrive intanto macchina fotografica ce l'avevi si ce l'ho io ce l'ho io insieme al ok ma se rifacciamo questo che attiva mi porta un progettivo perché è un po' troppo attiva la ragazza tu prendi un base che non è un demon basta che non è un demon è tutto a posto no non è un demon non può essere un demon allora io penso che gemelli non può essere perché fa il rumore solo da una parte se hai iniziato a fare anche vero quello sale troppo stuzzichiamolo un po' ciao betty siamo noi perché lo terrore il cazzo chi è che affiatato sei stato tu no io scato ragazzi sei cacchiato con l'incenso uno spirito ritorniamo penso proprio di sì come ho sceso l'incenso esatto allora mi sa che uno spirito lo deve scrivere se scrive siamo a posto perché lo spirito scrive dove l'hai messo il dozzo? l'hai messo vicino alla porta dell'armadietto è proprio al centro sì sì cioè sì perché quella sta destra sta dentro l'armadietto se passa lo vedi sì sì perché mi ha mosso di nuovo la porta dell'armadietto la stessa di prima ma è stata bullizzata da quando era bambina e lo lasciano nell'armadietto e chiudevano l'armadietto tipo bulli americani ma secondo me è una bambina secondo me è una bambina anche dalla voce con cui mi ha risposto secondo me è una bambina ma eh quando è stato scritto intanto eh la faccia la bambina non è una bambina è una bestia satana allora un rate allora un rate un rate è uno spettro pareggio che non lo spettro no un rate sì vabbè spettro l'unica cosa che ci manca è l'oggetto maledetto che sta sopra e vi posso confermare che è una bambina voodoo l'ho vista e e ci serve l'osso ok andiamo a cercarcela io direi ragazzi direi un giro di pillole per tutti quanti siamo tranquilli che questa è questo crocifisso nel caso eh eh ma non vabbè ma è uno spettro non attacco cioè il vero problema era il demone se usciva in mezzo una parte di demone era rischiosissimo ok andiamo a cercare l'osso è una macchina a foto allora qui l'avete già controllato no si fatti vedere smettila ma voglio fare una foto ho capito però io ti picchio dopo betty fatti vedere guarda che mentre lui mentre lui gioca con la bimba beh bimba un corno è quella là nuda nuda eh vabbè no secondo me sta sopra questo tazzo di os sta sopra sì pure secondo me sta sopra secondo me l'osso sopra tu divertiti con la bambina nuda eh divertiti con la bambina fatti vedere bimba tanto che noi cerchiamo l'osso qua eccolo che cos'è beh è un pezzo di qualcosa vieni qua vieni qua Gryus eh Gryus Dictator è qui la bambola V2 chiamali tutti va indostate ok cosa no ah comunque l'hanno comprate tutti molti la bambola V2 non sono riuscito a prenderla online ah sì ah quella di fasmofobia sì era sold era sold out sì purtroppo eh ma la rinproporrò eh però era simpatico toglierei con power range ventaglie venga provo a togliere provo a togliere gli aghetti il che il che gli aghetti dalla bambola dalla bambola perché voglio dire cosa succede vai che succede al massimo muore al massimo muore vai vai che cazzo si usa sta roba devi cliccare e basta ah nella cazzo sì fallo ah ha già interagito hai visto è scaturita hai fatto qualcosa io non ho cazzo non vorrei ti parlo ancora aperto fantasma no attacco allontano eh sì eh sì sì esci ignoto ignoto sei vivo vai aspetta no è vivo è vivo non è punto interrogativo ignoto è morto è morto l'ha ucciso eccolo è morto andiamo guarda guarda è incazzatissimo ah però ignoto guarda che se fai la foto al morto dobbiamo andare guarda la foto del morto hai ucciso il membro sì 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 l'ho visto andiamo è colpa sua se l'è cercato mamma mia ragazzi è stato divertente come morire malissimo occupato porca puttana ti ha ti ha sturpiato ma c'è un problema ma c'era c'era il nascondiglio no c'era il nascondiglio naturali c'erano le casse porca puttana porca puttana aspetta che c'è un problema qui manca la dittata no c'è un c'è un problema dobbiamo uscire perché hai crashato il dittata al prossimo video raga